La ricetta che faremo adesso di Mela Rossa è il pollo al forno con patate. Abbiamo bisogno di pollo, patate, aglio, sale, salvia, rosmarino e alloro e un po' di olio. Iniziamo con mettere un po' di olio nella nostra pirofila. In questo modo l'avremo già pronta. Spennelliamo un po' l'olio. Mettiamo da parte. Ricordatevi di accendere il forno a 190 gradi. Dopodiché tagliamo le patate a cubetti abbastanza grossi. Adesso io qui ho un mezzo pollo tagliato a pezzettini. Ricordatevi di far tagliare dal macellaio pezzi non troppo piccoli, altrimenti si seccheranno nella cottura. Se volete potete utilizzare un pollo intero, ma il tempo di cottura sarà maggiore. Adagiamo i pezzi di pollo nella pirofila. Questo è un piatto molto semplice ma molto importante da un punto di vista nutrizionale perché consente di apportare i benefici delle proteine di un prodotto animale senza avere una grande quantità di grassi che l'accompagna come succede con altri tipi di carne. Infatti abbiamo addirittura il 20% di proteine fatte da aminoacidi importanti, essenziali e di conseguenza sono proteine di alta qualità senza avere i grassi. Di conseguenza l'apporto calorico è molto basso, soprattutto se abbiamo l'accortezza di eliminare la pelle dal pollo. La pelle aumenterebbe di molto l'apporto di grassi. In questo modo abbiamo un piatto nutriente con una buona qualità di proteine senza i grassi. Contornati dalle patate Le patate servono ad accompagnare questo piatto e ad apportare un tipo di nutrimento diverso, cioè i carboidrati sotto forma di amidi. La forma al forno, le patate al forno in questo caso, consentono di aumentare molto la glicemia, quindi attenzione per i pazienti diabetici perché possono ritrovarsi un valore di indice glicemico, vale a dire la quantità di zucchero presente nel sangue, più alto rispetto a un'assunzione di patate cotte in un'altra maniera. Due spicchi d'aglio interi, un po' di sale E a questo punto spezzi a vostro piacere. Io metterò la salvia Il rosmarino E delle foglie di alloro Un altro pochino di olio E andiamo ad infornare in questo caso per 45 minuti un'ora Ed ecco il pollo arrosto con patate di Mellarossa.it Buon appetito! Grazie a tutti! Grazie a tutti!